La piattaforma della nuova Jeep Cherokee deriva da quella della Giulietta. In realtà la sua piattaforma si chiama CUS Wide ed è una versione della piattaforma della Giulietta allargata e allungata per le dimensioni delle vetture globali. La piattaforma è stata modificata per diverse aree. La prima è quella per l'installazione dei propulsori di dimensione importante come i V6 americani, per l'adozione della trazione integrale e per l'assetto rialzato. We had to build in some more capability to the platform, it had to go all wheel drive, it had to have with an all wheel drive, a very sophisticated all wheel drive system with a axle disconnect for fuel economy. So it was a very different system than it was in the industry. And we also had to build in a lot of off-road capability, ground clearance, approach and departure angle. Questa piattaforma è diventata una vera piattaforma modulare che può recepire vetture da un high-tech, uno o due volumi, fino a un SUV di dimensioni importanti, mantenendo però delle caratteristiche di leggerezza che sono estremamente importanti per i problemi di consumo che affrontiamo già oggi e che dovremmo affrontare sempre di più nel futuro. E' importante la modularità appunto perché si possano realizzare vetture da un carattere estremamente sportivo come la Giulietta o la Dart e poi vetture apparentemente diverse come la Cherokee che è un fuoristrada 4x4. Per quello che riguarda i powertren, i due centri si sono suddivisi un pochino la responsabilità. Nel centro di Auburn Hill, negli Stati Uniti, la specializzazione è sul motore di grossa cilindrata, V6, V8, mentre a Torino rimane la forte specializzazione sui motori diesel e sui motori benzina di piccola cilindrata. The basic architecture came from my colleagues, so we had to work very closely with them. They had all the history, they had all the fundamental understanding of sizing, on the basic chassis and engine system setups. So they became really invaluable over the first two years of the program, helping us with a lot of the history. And then as more derivatives of the architecture started to become known, we were able to do more and more by ourselves. Diciamo che l'interazione fra le persone dall'inizio di questa bella avventura intercontinentale è stato più da un punto di vista di cultura e umano. Noi abbiamo potuto apprezzare nel modo di lavoro, ma anche di essere, dei nostri colleghi americani, una maggiore propensione alla processività, quindi ad essere rigorosi nei processi, nell'applicazione delle norme, delle procedure e dei tempi, dei timing e di sviluppo. Noi abbiamo una maggiore flessibilità e loro hanno potuto constatare come nell'affrontare determinati problemi noi ci poniamo in posizioni più, a volte più laterali e più fantasiose. Per cui questo connubio di due culture diverse sta dando dei frutti veramente molto interessanti. Grazie a tutti.